C'è Adriano, c'è Stankovic, c'è Ibra, cambiasso vuole che si vada a piazzare qualcuno da un'altra parte Materazzi gli dice stai un pochettino più in qua, Zanetti mettiti un pochettino più in qua bisogna pensare tutto, parte Ibra, il velo, Adri, il suo tiro E gol, 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 adriano, adriano, e due E due! E due! E due! E mio amico Charlie, lì, eccolo là, un passo di samba, fa bene, a minuto 23, Inter in vantaggio con Adriano, forza ragazzi, 2-1, avevamo chiamato il gol, il gol è arrivato, ma certo che sì ragazzi, tiro, vediamo se c'è una deviazione di qualcuno in barriera, vediamo, perché vedo Frey spiazzato, forse sì, forse l'immagine dal davanti ci aiuta di più.